Buonasera, siamo in edizione straordinaria oggi per informarvi di quanto è accaduto e quanto sta ancora accadendo soprattutto in provincia di Vicenza. Abbiamo anche informazioni comunque somarie, frammentarie dalla provincia di Verona. Una fortunale si è abbattuto su queste zone colpendo in modo devastante il Vicentino. Ci parlano di situazioni gravissime ad Arzignano e anche a Tiene. Nel Veronese addirittura c'è stata la formazione di un vero e proprio tornado che fortunatamente si è sviluppato lontano dalle case, in piena campagna senza fare danni, senza ferire nessuno. Non abbiamo moltissimo tempo perché fra un poco dovremo dare la linea al santo per la diretta della messa. Poi torneremo con la nostra informazione con il Tg Bassano e il Tg Vicenza parlando diffusamente di quanto sta accadendo. La nostra redazione di Bassano sta lavorando alla cremente per darci tutte quelle che sono i video, le informazioni, le foto che ci arrivano. Sono video che, per esempio, vi facciamo vedere questo. Chiedo alla regia di togliere l'audio per il semplice motivo che non sappiamo cosa si dice. Questa è Montecchia di Crosara. Vedete, questi sono tetti divelti e scaraventati in mezzo alla strada dalla violenza del maltempo. Si è trattato di un grande temporale. L'avevano annunciato dalla regione, l'avevamo annunciato anche noi, ne avevamo parlato poi oggi, anche durante il nostro Tg, Focus Tg a pranzo. Era stata annunciata la formazione di questo imponente temporale che stava arrivando dalla Lombardia. Si stava muovendo, abbiamo visto le immagini dell'ARPA. Era temporale che andava sostanzialmente, aveva un fronte che andava da Cremona a Innsbruck, e quindi praticamente l'intera ampiezza del Veneto, centinaia di chilometri di volume. E come da programma si è abbattuto su di noi. Vi facciamo vedere, vi facciamo ripartire questo altro video che ci arriva invece da Trissino. Chi è stato sul posto dice che sembra un bombardamento. Guardate, capannoni semplicemente sventrati, adesso continuano ad arrivare tantissimo materiale. Dovrebbe esserci anche... Vabbè, questa è una foto, si vede la supercella, vedete tutta quella distanza di nuvole enorme, lampi con fulminazioni, tantissime fulminazioni, un numero davvero incredibile. Fra poco dovremo avere i dati, ma chi abita fra il Vicentino, l'Alto Vicentino, il Veronese, si è accorto di quello che stava accadendo. Torniamo in studio, vi lanciamo alcuni video, ve li mandiamo proprio da qui, perché non c'è stato nemmeno il tempo di imbastire l'ossatura di un telegiornale, quindi stiamo approfittando anche di quello che arriva dai nostri telespettatori. Vediamo qualche foto da Arzignano, purtroppo sono fotografie statiche, quindi non abbiamo... Vedete, questa è Arzignano, in questo momento ci segnalano un numero ancora imprecisato di case scoperchiate, molte case scoperchiate, vedete lì sotto non riusciamo a capire se è una vettura o se si tratta di... o se si tratta di tetti, andiamo avanti con le fotografie, adesso ci segnalano anche l'arrivo di un... ve lo cerchiamo al volo, un video del sindaco di Arzignano che dà alcune informazioni importanti su quello che è successo, ve lo recuperiamo, lo diamo al volo, dovrebbe esserci. Siamo in emergenza, la situazione è davvero critica, la protezione civile sta intervenendo, la polizia locale sta prendendo nota di tutte le segnalazioni che stanno arrivando, cercheremo, anzi stiamo intervenendo principalmente in maniera proletaria nelle situazioni di pericolo e poi man mano in tutte le altre situazioni. Vi preghiamo di rimanere a casa in modo da non infracciare il lavoro dei soccorsi, grazie. Questo era il video in arrivo dalle autorità di Arzignano, quindi la situazione è talmente grave che le autorità chiedono state in casa, non uscite perché, sì ce lo conferma anche una nota scritta, molti danni segnalati in città, diverse strade bloccate, il sindaco in comando di polizia per coordinare, rimanete a casa, dicono ai cittadini di Arzignano, al momento nessun ferito segnalato, ci sono grandi problemi di linee internet e telefoniche che rendono instabili le comunicazioni, quindi ad Arzignano una situazione in via di divenire della quale vi daremo conto, quindi poi nel seguito della nostra diretta in edizione straordinaria continuiamo a vedere le fotografie che ci arrivano proprio da Arzignano, vedete il numero di alberi schiantati è veramente altissimo, torniamo ancora una volta in studio perché continuiamo a ricevere foto e video, adesso vi facciamo vedere le immagini di questo terribile temporale, potentissimo temporale che tra l'altro ha colpito anche il Bassanese, la stessa Bassano è stata colpita da grandinate importanti, ci segnalano anche danni a vetture e a tetti perché le grandinate sono state potentissime, noi abbiamo qualche piccolo problema di visualizzazione ma fra poco torneremo subito a farvi vedere il materiale che ci è arrivato, per esempio vi facciamo vedere, tanto per capire la violenza del temporale, la portata del temporale che si è abbattuto oggi allora intanto finché noi risolviamo i problemi tecnici che succedono anche e soprattutto in queste giornate vi ricordiamo, una grande fronte temporalesca ha colpito il Vicentino e il Veronese, ha fatto enormi danni ad Arzignano la città di Arzignano è stata devastata, abbiamo notizie di case scoperchiate, di auto ribaltate vediamo se dovremmo avere qualche video adesso, qualche foto, state con noi per qualche istante, ci arriva talmente tanto materiale che poi è difficile anche riuscire a recuperarlo, vediamo per esempio, questo è, vi facciamo vedere dalla pagina Facebook, questo è il Veneto imbruttito di cui approfittiamo, approfittiamo della loro cortesia per farvi vedere cosa è successo ad Arzignano, vedete in fondo questo, no questa è ancora Montecchia di Crosara un palazzetto, un capannone assolutamente scoperchiato, torniamo a vedere da noi invece Bassanese, la grandine dimensioni della grandine, questa è la grandine che è caduta oggi su Bassano ed intorni, chicchi grandi come noci alcuni dei quali, ecco vedete, questa era la foto di prima, chiedo alla nostra redazione se c'è qualcosa di più come materiale in arrivo da Arzignano perché ci avevano segnalato, ok ci hanno segnalato, vediamo, vediamo ecco questa per esempio è una fotografia della grandine in alto piano, grazie alla regia che ci segue sempre siamo entrati in straordinaria senza passare dal via come si suol dire, vedete le dimensioni di questi chicchi di grandine grandi come una chiave, la conformazione molto particolare dei chicchi di grandine è tale che dove cadono fanno un disastro perché sono frastagliati, quindi sono in grado di distruggere dicono gli addetti lavori anche addirittura lamiere, sicuramente foglie, alberi, tutto quello che incontrano vetri vengono distrutti, torniamo in studio, andiamo ancora alla ricerca di materiale un attimo chiedo, vediamo, chiediamo la nostra, ecco ancora foto da Arzignano, vediamo qualche altra foto, poi saremo, abbiamo i nostri giornalisti che stanno andando sul posto, questo è, questa è una foto da Arzignano, vedete gli alberi di Velti caduti, ancora alberi caduti sempre da Arzignano, caduti su cancelli, quindi alberi caduti a ridosso delle case, ancora, quindi noi non abbiamo ancora tutte le informazioni, ci par di capire, possiamo evincere da quello che vediamo che ci siano stati 20 con una violenza inaudita che hanno ribaltato un gran numero di alberi, che hanno sradicato un gran numero di alberi, quello che avevamo visto nei giorni scorsi si è ripetuto con allarmante, con paurosa regolarità anche ad Arzignano, anche questa foto, questo pare essere o un bagno da cantiere o addirittura dei New Jersey fatti volare via dal vento, ancora alberi, alberi caduti sulle case, incredibile che non ci sia stato nemmeno un ferito, qui questa è la segnalazione che c'era arrivata sempre da Arzignano, ci hanno detto che ci sono molte case scoperchiate, questa è una prova di quello che succede, allora torniamo un attimo, vi ricordiamo siamo in edizione straordinaria, saremo in edizione straordinaria non ancora per molto, perché abbiamo la diretta dal Santo, ma poi torniamo con tutti i nostri telegiornali, con tutta l'informazione, gli approfondimenti del caso, vediamo, ecco, allora vi facciamo vedere, abbiamo modo di farvi vedere fotografie che ci arrivano in diretta, praticamente, vedete i tetti, le macchine, macchine danneggiate in modo gravissimo, qui sono volati via tegole, i famosi coppi, quando prendono il volo sono devastanti, un'altra fotografia, pensiamo che sia davanti, sì, sono capannoni, aziende in zona artigianale o industriale, tutta la copertura è venuta via a pezzi, coperture intere di capannoni distrutte, divelte dal vento, quindi più che la grandine in queste zone ha fatto il vento, l'assessore Bottacin della Regione Veneto si sta interessando, vedete anche qui finestre, divelte, di quanto è accaduto, si parlava di una vera e propria tromba d'aria, ecco, anche qui tetti, tetti volati via, ovunque, questo ancora un altro capannone distrutto, torniamo in studio perché abbiamo il nostro WhatsApp che sta letteralmente scoppiando di foto, informazioni, Borso del Grappa, una nostra telespettatrice ci manda una foto della grandine caduta poco fa a Borso del Grappa, immaginate cosa possono fare dei chicchi di queste dimensioni, torniamo ancora in studio, diamo un'occhiata a quello che ci inviate, fra poco dovremo avere anche altre informazioni, ecco, Arzignano, l'emblema di quello che è accaduto oggi pomeriggio da Arzignano, una tensostruttura sportiva, è rimasta solo l'ossatura di legno, il resto è stato sradicato e lanciato a chissà quale distanza, vedete, in tutta la zona ci sono pezzi di tela, di tela, vasi addirittura, segnali stradali diverti, torniamo, torniamo in studio, continuano ad arrivarci moltissime, moltissime segnalazioni da voi telespettatori, vediamo, ecco, vi facciamo vedere quanto, quanto pioveva, togliamo l'audio perché non sappiamo che tipo di audio ci sia, se l'audio, eccolo dall'inizio, guardate quanta pioggia è scesa oggi, mobili ribaltati, una situazione, torniamo in studio ancora una volta, siamo qui per informarvi, raccontarvi di quello che sta succedendo in provincia di Vicenza con il maltempo che si è abbattuto in modo terribile sul Veneto, allora, Montecchia di Crosara, ci mandano immagini i nostri telespettatori, vi ringraziamo perché ci state facendo pervenire, vedete questo, vi facciamo vedere questo edificio totalmente scoperchiato, cioè tutta una parte dell'edificio è scoperchiata, quindi questa era la supercella che stava facendo cadere, torniamo indietro, torniamo in studio, i nostri telespettatori ci chiedono in diretta, grazie ai potenti mezzi, Castello di Arzegnano ci chiede, non lo sappiamo, abbiamo le nostre truppe che stanno arrivando sul posto, pochi istanti fa abbiamo visto un video che il sindaco di Arzegnano ha pubblicato sui social facendo vedere la sala operativa dicendo che è meglio per la gente restare in casa, altre foto che ci arrivano da voi, questi fiumi di fango, adesso appena usciamo da qui vi diremo da dove arrivano queste fotografie, fiumi di fango in casa, ancora una volta il Veneto sta pagando un tributo importantissimo questa parte del Veneto al maltempo, torniamo in studio, ringraziamo tutti voi telespettatori perché sta arrivando del materiale interessantissimo, il video che abbiamo fatto vedere con i cortili e le case lagate erano di Montecchia di, scusate, erano di Isola Vicentina, adesso andiamo a vedere Colceresa, Grandine da Colceresa appena arrivata da un nostro telespettatore, lasciamo alle immagini la potenza di quel che ci stanno dicendo, Mason Vicentino, vediamo cosa ci avete mandato, da Arzegnano, abbiamo un nostro telespettatore che ci invia materiale da Arzegnano, eccolo, questo è quello che resta del centro di Arzegnano, questo è Durante, guardate questo albero, vediamo se riusciamo a farvelo vedere un po' più di importanza, ecco ancora Arzegnano, ancora Arzegnano, l'edificio, il tetto di un edificio su una strada, un negozio, vediamo, vediamo, un negozio con la vetrina letteralmente esplosa, macchine distrutte, uno scenario quasi di guerra, guardate la situazione di Arzegnano, ancora in studio, torniamo, noi andiamo avanti con tutto quello che ci arriva, cerchiamo di, no, chiamo io, chiamo io lo studio quando siamo pronti a, chiamo io la regia, scusate, ecco, anche qui, questa è una persona che si è spinta all'esterno per vedere cosa stava succedendo, riteniamo che queste immagini, un muro alto 3 metri abbattuto, questo è probabilmente il muro di un campo di calcio, di una struttura sportiva, abbiamo aggiornamenti, abbiamo aggiornamenti, noi fra poco dobbiamo chiudere perché dobbiamo lasciare la linea al Santo per la diretta, poi torniamo subito in edizione straordinaria per farvi vedere quello che è successo, ecco, questo è un altro video abbastanza impressionante, lo facciamo vedere in grande, addirittura autoribaltate, autoribaltate dalla violenza del vento, chiedo alla regia di far vedere, fra poco chiudiamo ma tiriamo fino a dove possiamo con i video, rientriamo, rientriamo in studio, allora vi stiamo raccontando di quello che è successo questo pomeriggio, poco fa, nella Pedemontana, nell'Alto Vicentino, con il maltempo, guardate la grandinata, non sappiamo come ringraziare, questo è il cosiddetto Citizen Journalism, sono i nostri telespettatori che ci mandano decine, centinaia di video, fotografie, informazione indiretta dal territorio su quello che sta succedendo, rientriamo ancora in studio, vediamo ancora qualcosa, San Bonifacio, vediamo se abbiamo qualcosa di San Bonifacio, il palazzetto dello sport ci segnalano di San Bonifacio, quello che era il palazzetto dello sport di San Bonifacio, siamo a Verona, ecco abbiamo capito che cos'era l'immagine di prima, è il palazzetto dello sport di San Bonifacio, rientriamo ancora una volta in studio, tantissime foto, tantissime immagini, tantissimi video, un attimo, anche questo è interessante regia, da far vedere la violenza del nubifragio, tanta acqua, tanta grandine, tanto vento, tanto da devastare la città di Arzignano, abbiamo sentito il sindaco consiglia ai cittadini di restare in casa, non sappiamo da altre zone quale sia la situazione, ci parlano di gravi danni anche a Tiene, torniamo ancora in studio, Castello, ci chiedono Castello di Arzignano ma purtroppo non abbiamo, questo appena visto era di Bressanvido, purtroppo non abbiamo informazioni su, allora ci dicono i nostri telespettatori, grazie delle puntualizzazioni, il palazzetto giallo che avete visto ci segnala un residente è Montecchia di Crosara, a San Bonifacio ci riferiscono non avrebbe fatto i danni che abbiamo visto, quindi è importante anche per noi ricevere del materiale con delle informazioni adeguate, quindi se non siete sicuri di avere un riferimento geografico preciso non inviate materiale, allora per il momento noi dobbiamo staccare, passiamo la linea al Santo per la messa in diretta ma torniamo subito dopo con la nostra informazione, state con noi, torniamo fra un'ora circa. Grazie a tutti